Benvenuta! Ma la vera struttura è italiana, la musica è veramente buona. Abbiamo ragazzi fatto da Mara Maiunchi, la gatta è dei sessanta. Ah due, santa tre, avevo vent'anni dai, quindi una ragazza. Una ragazza? Allora, una cinguettina un po' a cantare. E' un casino che sembrava qua. E beh perchè da vecchi si mette il grasso, perché c'era una cosa che era... Dopo trent'anni si mette c'è un chilo al canto. Insomma, io di trent'anni ho passato.